Ehi la ciurma, io sono Mazzetese e ben ritrovati qui in questo video di Imperator Room, scusatemi devo passare un po' il volume Alessandria ha tanto per cambiare, ha della gente che muore di fame, che sono degli schiavi, tanto per cambiare, che dovremo muovere tanto per cambiare in un'altra provincia qui intorno Allora, 38, 38, rimuoviamo, vabbè intanto togliamo il timer, tanto questi non stanno più morendo di fame 38, 39, 39, 39, 39, e voi direte ma come questo video parla solo di 39? Eh, un po' sì Detto questo, allora, vediamo un attimo, vediamo delle invenzioni molto importanti, allora Ford Defense può essere interessante ma noi abbiamo bisogno più di offensiva Allora, tiriamo disciplina National Commerce Income, National Freeman, All Triumph, Assassinate Vado con questo, 15% più del commercio ci può stare, anche perché iniziamo a guadagnare un pochettino meno soldi, diciamo dai Eh, cosa che c'è? Tribesman, Tribesman, ma tanto Tribesman ne abbiamo così pochi che Taulanti ci chiede delle robe, abbiamo della gente scontenta Come sta nostra figlia? Nostra figlia sei adulta? Sì È maggiorenne di rakebank adulta Ok, più 007 La gente finalmente forse inizierà a vedere nostra figlia come la persona importante da mettere sul trono Ha 37 persone che la sostengono, ma speriamo che aumentino col passare degli anni Allora, tra l'altro che... che... ok, avrebbe 37 di oggettività se per caso dovessi morire io Allora, cerchiamo un matrimonio molto importante in modo che il figlio possa essere abbastanza... grande Allora, vediamo, 70 anni, 65, 55, chi ha questo? Un comandante C'è qualche scoled femmine? Per ora no, allora ci pensiamo tra un attimo Stavamo pensando a un matrimonio, scusatemi Allora, 65, 55, tutti i vecchiastri 46, 44, non è brutto come la morte, 59 Allora, ehm... Qualche bel giovinastro, 52, no, 48... siamo tutti vecchi? Scusatemi 17 Figlio dell'ammiraglio del... del Tavo Nauticon Figlio della famiglia degli Leuconidi Non ha grande popolarità, ma buona lealtà e non è corrotto Vuole diventare un governatore È umile Ah, la mentagra No, non vorrei che sopprendesse anche lei Teniamocelo da parte, Iollas Prassitele Prassitele ha 16 anni È dei mattanidi Ci è fedele, non è popolare, non ha prominenza Ehm... cos'è che ha? Ehm... è zelote E... è duro Allora, vediamo un po' 52, 16 Siamo nel Zadokite Allora A 16 anni Com'è che ho messo? Ehm... è un po' corrotto Direi di... no Oh, il governatore della Siria anche no 50 anni 52, 16 No Oh, non è che abbiamo tanta scelta Abbiamo... Simone Oh Ehm... Quello di prima Iollas O Prassitele Ehm... Direi che vabbè Prassitele ci può stare Non è male Vai Così magari fa un figlio E siamo tutti contenti Allora, vediamo un attimo Chi è che abbiamo Che possiamo mettere? Qualcuno di non troppo forte Perché qua non ci interessa Uno fortissimo Metallide, dai E qua Idem Ci serve uno Che sprizzi potenza Tutti i pori Mettiamo questo Che non c'è fedelissimo E ce lo portiamo Più fedele Ehm... Va, nego tutto Potresti supportarmi le rede Quanto costa 26 Vai Mettiamone un paio Non ne abbiamo più Ok Così dovrebbe Crescerci un po' di più Ecco Ah, tra l'altro Possiamo mettere anche Tre Come velocità Perché tanto Siamo in pace Uh, sì Ci sta Spendendo 699 Non tornare a metà Dobbiamo 10.000 10.000 qualcosa Roma si espande E potrebbe darci fastidio Certamente che potrebbe darci fastidio Perché Presto ci sarà Confinante Spero che si scontri Prima con Cartagine In modo che noi possiamo Comunque Averla meglio O comunque essere Lasciati in pace Tranquilli Perché Ricordo che dobbiamo ancora Cercare di prendere Eh, questa provincia Una provincia qua sotto Una provincia qua sotto Da Dall'area Cleopontica E dalla Misia Brettene No, dalla Sì Hm? E poi dobbiamo andare A espanderci qua Contro La Mauria Che è Davvero Molto 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 E sarà una guerra Davvero difficile Da portare Ma Dobbiamo farlo Dobbiamo farlo Dobbiamo farlo Allora In guerra contro La Mauria E la rivolta Se le uccide Quindi potrebbe essere Il nostro momento Migliore Questo per dichiarare La loro guerra Ma Visto che abbiamo Un'aggressive expansion Davvero importante In questo momento Direi che Ci conviene Tranquillizzarci un po' Sederci Sistemare le cose Lasciare morire Il nostro attuale reggente Covert action No Influence action Threaten war Dobbiamo aspettare Quando Abbiamo una tregua Fino al 52 Ok Ancora per 8 anni E con loro Fino a quando Ma ci può stare Perde 10 di realtà Ma ci resta comunque Leale Qua abbiamo Ce l'avremo anche Più o meno Per questo periodo 50 Quindi Due anni prima Sei anni Vabbè Ho aumentato la velocità Così almeno Siamo tranquilli E ci sistemiamo Le cose In pace Potremmo costruire Magari qualche Edificio Nel mentre Local tax Commerce income Local civilization value Local manpower Forte Questo è Local population growth E local slave happiness Allora Direi che ci facciamo Dei training camp Mi so che tanto Manpower Ne abbiamo un bel po' Male Non fa Vada Abbiamo speso 3000 In Edifici ma Vabbè Pian piano Ci rifaremo Import trade goods Simulate pop Ma gli altri Ci costano Delle risorse Che in questo momento Dobbiamo Cercare di mantenere Il più possibile Perché I punti di oratorio Dobbiamo Sfruttarli per Cercare supporto Nel nostro Erede Principale Più 0,30 al mese Ma lei ha 62 anni Quindi Il problema è che abbiamo bisogno davvero di tanto supporto Allora se scendesse qua più in fretta la tirannia Sarebbe una buona cosa Import glass Va bene dai Prendi glass Chi se Va bene Home power Vai dai Base metals No No La rivolta di traccia Ci ha dato 425 Soldi Ficchissimo Guarda La traccia è esplosa praticamente Possiamo supportarli? Chi è questo? Ah era il trofeus Ok Ok Civic advanced Allora Aspettate un attimo Ok dobbiamo mettere qualcuno su posto Come trofeus Mettiamo lui Anche se è un po' corrotto Mettiamo lui Anche se è un po' corrotto Sacrifice to the gods Costo Meno 22% Allora C'è il sesto nauticone Che arriva a sostanza tizio Ma il sesto nauticone È uno di quelli soli Soletti Quindi chi se ne frega Ehm Boh Allora Civic ideas Ho detto No Non c'è niente di nuovo Ma come? Ma Allora Senza neanche vedere se c'era bisogno di una scuola di family Cioè se c'era una scuola di family Vabbè Perché se c'era una scuola di family Mettiamo là su una navetta Ehm No Non mi è cambiato niente Mi ha messo solo questa qua Degli slave output Ma Non lo so quanto vale la pena In questo momento Hold triumph Non l'abbiamo mai messo Assassinate Non l'abbiamo mai assassinato I tributi Nevi morale Primary culture Happiness No Dai no This Diffuse a 40 Ciao starting experience Dai No Non ne ho detto Non so se ci sono dei pirati qua in giro Perché non pattugliamo mai i mari Effettivamente I nostri poveri mari Qua c'è cipro adesso con cui confiniamo C'è confiniamo con cipro Cipro con un pezzo di frigio C'è tutto esploso a sta zona qua Spero che esploda allo stesso modo la Mauri Appena iniziamo a picchiarla La batteriana è un local power No Chi è morto? L'archisomatofilasso? Ehm Non vi è nessuno di più forte di questo Che non c'è fedele Ehm Mettiamo lui Mettiamo lui Più 6% morale dell'armate Non è tantissimo 51% Ma io ne voglio di più Abbiamo bisogno di Più Di più Di più Prima che muoia Porca miseria Ehm Lo butto su di nuovo Vali Buttiamolo su Primary hair attraction Dovrebbero switchare pian pianino Verso di lei Ehm 1088 Home and Power Home and Direction Tau Makoi Chi è Tau Makoi? Ah è la provincia Home and Power Ma Direi di no Mi sembra che ne valga così tanto la pena per tutti i soldi che costa Dai switchate su di lei per piacere Più 020 al mese Ho capito Ma c'è troppo supporto per il pretendente Allora Diamo di nuovo Vai 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 Non abbiamo già più punti Vabbè Ottimo Uno splendido evento Più 021 Mannaggia la miseria Potete fare un pochettino Ok Più in fretta a passare dalla parte giusta Non posso aumentarla di nuovo forzatamente Non ho altri soldi per spostare C'è non ho altri punti Per spostare Vai tu Oh 44 Finalmente ne ha di più lei Più 031 Vai E che comunque basta come legittimità Va bene Non so che la rivolta di chi ho dato adito ma va bene Cosa posso fare con questi miei vassalli Alienist action Access action Influence actions No Covert actions È finita la guerra civile seleucide Quest'anno i seleucidi Oddio Oh Santi Numi Sono stati ridotti di brutto Adesso tutto dalla mauria mi sa No sono ancora là dentro 20 legittimità No Tanto mi è già sleale Me ne mancano ancora Sono tutti qua Sono tutti qua Porca Pupazza Military access Va bene Cosa sta facendo la macedonia Scusami Guarda con qualcuno la macedonia Contro la frigia Mareu Ma ha attaccato la frigia o How to take ionia Ah quindi la macedonia che ha attaccato Guerra Eh sì mi sa Perché La ionia È questa No e potrebbe anche essere che Siano i frigii che vogliono La ionia Cosa spiegherebbe perché Sono già tutti qua I Quelli della frigia Mentre invece i macedoni Sono ancora Girassi i pollici Wow Grazie La provincia mi regala Tutti questi soldi Bene Non posso mica essere scontento Questo Unclav qua invece È un vassallo della frigia Come anche quest'altro Si Si dichiarasse guerra loro Entrarebbe la frigia di sicuro Allora la lemmia Invece posso chiedere qualcosa Alla lemmia Influence action Threatened war Mi dai Cos'è che hai Quo su Canarbis No Elefasagrum Non lo darebbe Ptolemais Treon Si ma Canarbis No Perché vale tanto E questo perché È la capitale Vai dammi Elefasagrum Ah c'è il Tizio corrotto Vabbè Poi le chiederemo ancora quell'altra E le dichiareremo guerra Quando non esisteranno Praticamente più Questo Ah no È inabitabile Addirittura Ok Posso fare lo stesso discorso Qua con gli atrippa Per esempio Allora Qua Ah non c'è più nessuno Si sono spopolate 10 pops Qua non ne abbiamo ancora abbastanza Si dovremmo popolare questa zona Effettivamente Più che spopolarla Così come stiamo facendo Mentre invece qua Posso Minacciare guerra Gli atrippa non me la danno Mi danno alure Perché là in mezzo Non me ne faccio un cavolo di niente Mentre invece qua Loro Sono in guerra contro La tamudi revolt Che è là sotto Mi sa che gli atrippa dovrò Prendermelo per conto mio Overlord E tamudi revolt Ah stanno sotto i tamudi Loro Ah scusa un attimo Non abbiamo Un casus belli Possiamo fare un casus belli No Abbiamo Punti Perché sono di nuovo Tutti a votare per lui Porca miseria Potresti Allora non posso Ucciderlo Posso anche prigionarlo Perché è un generale Per futuro non è popolare Molto corrotto Vediamo un attimo Quali sono gli altri Che non mi sono fedeli Questa è sempre mia sorella E' un pretendente Quindi non posso imprigionarla Cosa posso fare allora? E' anche straniera Non so perché ho distanza ragione C'è qualcosa di nuovo Religious advance Si è perso i tiri religioso Non ho visto Sacrifice del God Cost Home Empower National Home Empower Più 10% Ci sta Mica male Anche Home Empower In realtà 1090 Ok Possiamo fare un omen Allora E andare sui research points Che mi sembra Nel momento la cosa migliore Anche se Devo dire che la tecnologia Non è che gli sia venuta Particolarmente bene In questo episodio di GSG Alla Paradox Alla Paradox Niente Avrei voluto arrivare Al 50 O Cribbio Cosa? No si è presa Sardi La frigia Perché? Sì mi sa Sì mi sa Niente Dovremmo ridichiarare Quello al frigio Allora Presto Perché questo Era Della misia Bretene Oh c'è uno Scorned family I Madinidi Abbiamo qualche buon Madinide da mettere qua? Mi sa di no Eh Qual è il primo? Questo che ha 0 No 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 Direi di no Questo lo mettiamo Al massimo generale L'oratorio a cosa serve? Non mi ricordo più Mettiamo Quest'uomo qua Che non è corrotto E Prima di Dividiamo Il sesto Nauticon Che ha comunque 4 Quindi va bene E qua Visto che è scesa La Come 14 Sta precipitando Di nuovo Allora Li aumentiamo Di nuovo A forza E ne giriamo Un paio Dobbiamo spendere Tutta la nostra Oratoria Per andare Ad avere supporto Per il nostro erede Che figlio Premogenito Tra l'altro Vediamo come cambia La situazione Se driftano Un po' In qua Sare solo Di più 006 Ok Sono shiftati In là Sempre solo Più 006 Perché supporto Il pretendente 044 Non è più 44 persone Sto tizio Dim Non so chi fosse Era un generale Sì Era un generale Di questa armata qua Mettiamo uno Ci vuole che Scanned Family Non mi pare Mettiamo lui Mettiamo lui Va bene Va bene Dai allora Ci interrompiamo qua Che già il video È venuto quasi di mezz'ora Io vi invito A lasciare un mi piace A iscriversi Perché non è stato già fatto Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti